Allora Marco, quanto tempo è passato dall'intervento? Quanto tempo è passato dall'intervento? Il 4 febbraio, comunque sono circa 3 mesi. Sono circa 3 mesi e ti ricordi qual era il tuo difetto prima dell'intervento? La miopia. Ti ricordi di fatto? La suio. Due rotti. Qualcosa del genere. Cosa mi vuoi dire? Come ha dato l'intervento? Mi ha dato bellissimo, nessun pastiglio, nessun dolore. Mi ha dato pochissimo. Molto pochissimo. E sei recitato ad aggiungere l'intervento un pochino. Un pochino, ma... Entra tutto completamente. Ho capito. Ora sei contento del risultato raggiunto? Sì. Bene. Puoi tornare alla sensibilità dell'intervento, la tua ottimità sgombata, giusto? Sì. Benissimo. Quindi adesso non è piuttosto di scarto, non è rilenti a contatto. Quindi sono dei tuoi orari un po' impegnativi. Ti immagino? Sì. Non rifaresti questo intervento? Dove ho fatto prima? Eh, dai. Sono contento che sia andato bene. No, tutto opposto. E ci rivediamo al prossimo Contro Ligono, fine anno. Ok. Grazie e male. Grazie a tutti.